Giungendo a Carpena incontriamo questo complesso residenziale a schiera di una decina d'anni fa, ma l'appartamento è completamente nuovo, ora in vendita con il suo bel giardinetto che fa da cornice all'entrata. La zona giorno, ariosa, luminosa, come raramente si vede al piano terra. Da qui si accede a una grande camera matrimoniale che gode di un comodo balconcino, un grande ripostiglio ideale per una cambina armadio e il bagno che è davvero enorme e dotato di doccia jacuzzi. Spese condominiali bassissime, è completamente autonomo, l'appartamento è completo anche di arredi, chiamami, è veramente un'opportunità interessante. Grazie. 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 Grazie.